Signore dell'ospitalità, buongiorno! Allora, care amiche, come avete dormito? Come una sultana. Ieri sera l'unica pecca che ho notato all'interno della camera. Ho fatto la doccia e ho dato un attimo a uno scivolone. Attenzione! Una doccia scivolosa e pericolosa può rovinare un soggiorno perché cadere è così facile e poi rialzarsi non lo è. Oh, sì, certo! Oh my God! Buongiorno! Cominciano ad arrivare tutte le pietanze, il tavolo si riempie di prodotti di qualità. Questo qua è un pane colpate di olive e origano. Sono postate. Però ancora non sono arrivate le bevande. Io avrei bisogno di bere, non c'è nulla. Non è vero. C'è il tè, ci penso io. C'è un problema, abbiamo solo due bicchieri? Due bicchieri, siamo quattro. Questi sono errori che i nostri ragazzi di solito non fanno. Vai! Che è che più siete? Aspetto il caffè, grazie Bruno. Credo che il caffè è la prima cosa, la bevanda calda deve arrivare. Caffè vassi. E poi uno inizia a mangiare. Buongiorno! 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 Abbiamo una sorpresina per Bruno questa mattina. Bruno, è il mio buono! Un compiano in Marocco vale tanta roba. Giorgio ha giocato una buona carta portandogli una torta. Sono molto emozionato. Tanti auguri, Bruno. Grazie, grazie. Grazie, veramente, grazie. Siete stati davvero, veramente carini. Grazie.